Si intitola Ciao Belli ed è il nuovo film di Pio Amedeo, uscirà nei cinema italiani il 1 gennaio 2022. Un film garbato, una commedia divertente, simpatica, ironica e al tempo stesso di spesso e elevato. Parla, questo film, della lunga amicizia tra i due fin da piccoli hanno un legame forte, indissolubile, sia di tipo lavorativo che personale, nonostante Pio sia trasferito nel nord Italia, andando a tradire quelle che sono le sue origini proprio pugliesi. È una commedia garbata, nel 2022 diretta da Gennaro Nonciante, con più tantini a Medaugrieco, uscirà il 1 gennaio 2022, la pellicola è distribuita dalla Vision Distribution, la durata è di circa 103 minuti di tempo, come si legge sul web. e abbiamo veramente tanto da vedere, tanto da sapere e soprattutto il divertimento verrà elargito con grande competenza da parte di questo duo comico pugliese che, nonostante il tempo che passa, sono sempre divertenti, sono sempre brillanti, ma soprattutto sempre contagiosamente allegri. Bene, complimenti dunque a Pio e a Medeo, il duo comico pugliese per eccellenza. Il video termina qua, iscrivetevi al canale, alla Torre Italiano commentate, ciao a tutti e al prossimo video.